mi scusi signora sto cercando una ragazza che è bravissima dicono a fare i tordelli si chiama sabrina lei la conosce si guardi abita proprio qua grazie molto gentile grazie sto cercando sabrina abita qui si abita qui vi apro buonasera cercavo sabrina entrati in casa di sabrina la troviamo impegnata a realizzare i suoi tordelli ci ha confidato che il suo rapporto con questo prodotto arriva davvero da molto lontano i suoi tordelli sono realizzati secondo un'antica ricetta pensate che il ripieno di questi tordelli è fatto a crudo per mantenere integre le proprietà delle materie prime adoperate sabrina ci mostra anche come li realizza i suoi tordelli il segreto della sua ricetta qual è è tanto amore e materia di prima qualità i prodotti devono essere sempre di prima qualità è questo che ti darà il successo io spero di sì penso proprio di sì grazie a tutti grazie a tutti